Un pineto dei due voltici del passo, la Recanatese brava ad approfittare della giornata no dei padroni di casa. Pera, su rigore e si villa nella prima frazione, ipotecano la gara, riaperta da Orlando nella ripresa e chiusa nuovamente da Manuel Pera. La Recanatese così allunga a 38 punti in classifica, mentre i biancazzurri rimangono fermi a 34 lunghezze. Inizio di gara sonnecchioso con nessuna azione degna di nota. Dopo mezz'ora di noia, fulminaccio il sereno che sblocca il match. Pera si invola verso l'aria e viene tirato da Shiba per bozzetto di Bergamo. Non ci sono dubbi e indica il dischetto dagli 11 metri, lo stesso Pera. Freddo non sbaglia, battendo l'ex Giulianova e portando in vantaggio i suoi. Il pineto prova a rispondere sette minuti dopo al 41esimo su calci punizione. La sfera carambola in aria, Tomassini gran colpo di tacco ma la palla sfiora solamente il palo di Sprecacè. I marchigiani sono in partita e recuperano palla a centrocampo. Visto in aria, ma Sivilla colpisce debolmente. Poco male per la punta a gelorossa, azione fotocopia nel secondo dei due minuti di recupero del primo tempo. Questa volta il numero 9 dal cuore dell'area piccola biancazzurra non può proprio sbagliare. Siglando così la rete che vale il 2-0. Nella ripresa partono subito forte gli ospiti con Sivilla assista al bacio per Pera che non ci arriva per un soffio. Il pineto risponde con Orlando, gran botta disinnescata in corner da Sprecacè. Al 62esimo arriva l'episodio che potrebbe cambiare il match. Per questo retropassaggio da centrocampo il direttore di gara assegna un calci punizione a due in aria. Sullo scarico corto del compagno è l'ex Pescara Orlando a spondare il muro giallorosso. E riportare finalmente in gara i suoi sforzi della truppa del presidente Brocco potrebbero concretizzarsi al 75esimo. Taglierino dice Arcelluti ma Tomassini non controlla bene il palone e vanifica la chance. Il calcio come sempre non perdona. Da un calcio di punizione innocuo la sfera arriva al solito Pera che davanti a Sciba non sbaglia il gol che decide il match. Proteste dei locali per una presunta posizione fuori gioco del numero 7. Sempre il fantasista giallorosso potrebbe allungare ulteriormente al minuto 86 la sua conclusione. Questa volta è debole. Nel finale su calcio piazzato è Cruz a provare a scardinare la difesa avversaria che respinge la bordata. Non succede più nulla. Il Pineto cede il pasto alla Recanatese che si invola in zona playoff. Un primo tempo decisamente da dimenticare per mister Amaolo che dovrà tornare il prima possibile al successo che manca ormai dal 2 dicembre scorso. Alla luce del risultato di oggi si possono centrare ancora i playoff dove andrà a lavorare mister Amaolo. Per parlare di obiettivi adesso siamo prematuro. Abbiamo una situazione un po' precaria in questo momento. Dobbiamo ritrovare a essere squadra mettendo quelle componenti che occorre. Poi gli obiettivi sono tutti alla portata perché abbiamo dimostrato anche in precedenza di fare una serie di risultati che ci ha permesso di ritornare nelle posizioni buone di classifica. Noi adesso abbiamo un obiettivo. Ripartire, ritrovare quell'equilibrio, ritrovare fiducia, ritrovare convinzione. Convinzione è essere quella squadra che con gli uomini giusti possa interpretare le partite con il più giusto. Siamo una squadra strana che più volte abbiamo vinto a Cesena, abbiamo vinto a Mattelica. Poi magari ci siamo persi. Diciamo che stiamo maturando. Se riusciamo a dare continuità significa che abbiamo raggiunto una certa maturità. Io mi auguro che sia così. È un campionato difficile e impegnativo per chiunque. Ogni domenica è una partita, una storia diversa e bisogna essere ogni domenica pronti.